Alziamo il velo sulla prima operazione una carta verde una carta rossa sottostante e soprattutto motivazioni Enrico. Allora la prima carta che gioco è una carta verde nel frattempo ricambio gli auguri a Giovanni sostanzialmente la strategia in questo momento è l'ho spiegata prima perché me l'hai chiesta ed è su euro dollaro quindi è un trade a rialzo sul principale cambio se vuoi andiamo a vedere i livelli oppure ti do una view generale. Dammi una view generale e poi livelli operativi Enrico. Allora la view generale sostanzialmente quella che dicevamo in precedenza secondo me in questo momento nonostante appunto arriveranno dalla parte della banca centrale americana indicazioni su una politica un po' più restrittiva in ogni caso un dollaro così forte non fa bene all'economia americana quindi io penso che gran parte del movimento a ribasso sia stato già scontato quella figura che noi vediamo adesso monitor insomma è comunque una figura di inversione che però potrebbe aver raggiunto diciamo la sua area di minimo quindi dai massimi che sono stati appunto intorno ad area 1,22 siamo arrivati fino agli attuali 1,1270 circa secondo me da qui si potrebbe ripartire magari domani dopo la fed più probabilmente giovedì o comunque con l'inizio della prossima. Enrico il transito poco sopra l'area di 1,10 di quella vecchia resistenza dinamica molto importante che aveva catalizzato l'interesse degli investitori in regia andiamo di grafico dal giugno 2018 in avanti che poi era stata violata a rialzo proprio nella seconda parte del 2020 dando poi propulsione al movimento rialzista culminato con i top in area 1,23 bene questa violazione non è mai stata pull beccata come si dice tecnicamente non si è mai avuto un vero e proprio test del cambio di stato ci si è molto si è molto vicini in concomitanza di questo duplice appuntamento con federal reserve e banca centrale europea potrebbe essere altresì la fase la tipica fase e il tipico momento per scucchiaiare da sotto come sul dire ottimo togliciano i puviani. Sì assolutamente allora noi non è che possiamo essere dei farmacisti quindi la mia indicazione è che secondo me il trend diciamo invertirà da questi livelli che possa scendere euro dollaro di una figura una figura e mezza e andare diciamo vicino a quella trend line che tu hai disegnato è assolutamente possibile teniamo presente che una figura e mezza su euro dollaro è circa un 1,5 per cento in realtà qualcosa meno quindi assolutamente quei livelli possono essere raggiunti anche diciamo durante le parole del governatore al netto di questo diciamo che la mia un'indicazione di massima se proprio vogliamo fare un'operatività se vogliamo fare anche un po' di didattica normalmente prima di dati così importanti si tende visto che la volatilità tende aumentare si cerca di lavorare con sites più piccole quindi stop e target un po' più ampi e sites un po' più piccole in questo modo la volatilità fa meno paura. I livelli allora Enrico? Allora i livelli io ho messo come livello d'ingresso un livello che è già stato bucato 1,1280 per cui va benissimo l'ingresso al mercato domani mattina stop loss 1,1180 quindi classici 100 pips di stop target 1,1380 quindi 100 pips di target ovviamente per cercare di andare diciamo a chiudere la posizione entro la fine dell'anno in cui si concluderà il contest in realtà se vogliamo avere un diciamo uno sguardo un po' più ampio secondo me euro dollaro potrebbe nel momento in cui inizia ad invertire l'attuale trend potrebbe salire anche di più rispetto al target che ho individuato